Ennesimo pareggio per il termo di calcio contro la San Benetese, ormai siamo al sedicesimo record in Italia per la Serie D. Un nulla di fatto che oggi ha davvero detto poco, soprattutto in fase realizzativa per i giallorossi. La Samb, nonostante la situazione economica e di struttura di squadra e di società, ha oggi disputato la sua onesta partita, non patendo più di tanto il termo di calcio. E anzi, nel finale ha tentato anche il colpo a sorpresa. Scesi in campo agli ordini del signor Scarpati di Formia, il termoli in maglia a righe verticali giallorosse e la Samb in completa tenuta bianca. Il termoli al terzo minuto si presenta al tiro dal limite con Maiorino che dopo una lunga sgroppata tira al limite dell'aria un forte tiro che finisce però alto sulla traversa. Al decimo ancora il termoli ci prova con Ciofi che entra pericolosamente in aria ma mentre tira proprio a botta sicura all'ultimo istante un difensore riesce a deviare in angolo. Dopo questo avvio incoraggiante c'è una lunga pausa di riflessione che si interrompe al trentesimo ed è sempre il termoli che tenta la sortita in avanti. Arriva un buon pallone all'interno dell'area di rigore e il Kwanzmi colpisce di testa ma debolmente. E la Samb fino a poco più della mezz'ora non pervenuta. Si fa viva poi con il nuovo entrato Felix che appena in aria al trentaduesimo lascia partire un ottimo fendente teso che Lombardo devia in angolo. Al trentacinquesimo insistono gli ospiti. Punizione dalla tre quarti, Vita colpisce in aria di testa ma la palla va fuori. Al trentanovesimo sempre la Samb su punizione tira ma la sfera si abbassa pericolosamente nei pressi della porta ma comunque finisce fuori. E si va così al riposo ma la ripresa è davvero non ha offerto spunti appetibili. Solo al settimo proia della Samb ci prova dal limite al volo ma la palla va fuori alla destra di Lombardo. Poi nei minuti di recupero si accende qualche cosa. Il termoli purtroppo perde per la seconda munizione antezza mentre siciliano ammunito ora diffidato ed entrambi i giocatori salteranno giovedì l'importantissimo scontro diretto a Monte Giorgio che potrebbe decidere le sorti tra la salvezza diretta e il play out. Tanto rammarico per il termoli calcio da questo pareggio l'ennesimo ottenuto contro la San Benedettese.